La mancanza di contesto nella nostra valutazione, che rende totalmente inutile i libri che leggiamo, le formule, i metodi, i frameworks, non funzionano perché estrapolati da quel contesto non vogliono dire niente. Ogni volta che spegniamo la luce del contesto dalla nostra equazione, spegniamo per piangere nel buio della nostra cameretta. Ma come dice il saggio Bergonzoni, quando vedo un uomo che piange nel buio della sua cameretta, mi domando cosa lo spinga a non accendere la luce. Grazie a tutti.